1, 2, 3, via! L'applauso! Sono i numero 2! Filma i pochetti e mi chieda i palonti! Siamo cominciati in merda! Da 2, 1 o da 2, 1? 3, 2, 1, via! A 2, 1, 2, 1, via! Fittorale numero 3 del domenica, Maria Rosetti e Maria Coglietta Stena del Mundo Marathon Team si gioca in casa! Sorriso nella stanza! 3, 2, 1, via! E applauso i maschetti! Toro! A piede libero! Squadra 32, 3, 2, 1, via! Con la numero 30! Ciao! 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 Grazie Grazie